La cardiologia intesa come servizio di prevenzione, screening, diagnosi e cura delle patologie. E' partendo da questi presupposti che si è voluto organizzare nel centro medico Blue Gallery di San Severino Marche un convegno dal titolo Cardiology Update 2014, una a due giorni dedicata alle malattie del cuore dove specialisti provenienti da tutto il territorio nazionale e non solo si sono potuti confrontare sulle ultime frontiere della medicina. L'incontro è stato curato e organizzato dal direttore del centro di cardiologia del Blue Gallery, il dottor Raul Brambatti. Questo è un appuntamento annuale, è da 15 anni a questa parte che ci ritroviamo ogni anno ed è un corso d'aggiornamento per i nostri medici e per i nostri infermieri. Poi abbiamo il piacere magari di ospitare altri medici, di ospitare anche altri infermieri e quando possiamo cerchiamo di dare un contenuto importante al convegno e quest'anno ci siamo riusciti. Siamo riusciti perché abbiamo avuto anche l'aiuto e il supporto di aziende importanti come la Lube, la Fagiolati e la Nova Vetro che ci ospita. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo messo insieme un programma molto interessante con dei relatori particolarmente importanti. Il convegno che ha raccolto in gran parte tutti gli argomenti di cardiologia ha visto la presenza di relatori di primissimo livello, nazionali e anche internazionali, dai docenti dell'Università Politecnica delle Marche ai medici dei Policlinici San Donato Milanese e Gemelli di Roma, oltre all'esclusiva presenza del professor Duchenisch e la videoconferenza con la McMaster University di Hamilton in Canada. Il congresso è molto importante perché ci sono tante persone molto famose delle regioni importantissime e per quello i medici vengono qua a imparare e vedere quello che vanno a dire, è molto importante. È la prima volta che vieni in Italia? No, io ho fatto uno scambio culturale quando ero giovane per quello ho imparato un po' l'italiano, non tanto ma... Lei di che cosa parlerà oggi? Di ecocardiografia, specificamente insufficienza cardiaca con l'ejection fraction preserved, non so, è un tipo di heart failure diciamo. Per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, che cosa possiamo dire oggi? Come si possono prevenire? Se ci sono novità anche per quanto riguarda la prevenzione? Ma sappiamo adesso che ci sono i rischi, ben conosciuti, ipertensione, chi si fuma, diabetes, tutto quello. Ma c'è un sindromo metabolico, pre-diabetes, molto importante. Chi ha la pancia, non ha la diabetes ma è pre-diabetico. E' molto importante di vedere che chi ha un rischio di venire a questo punto e prevenire con non mangiare troppo, essere un po' in forma, tutto quello. Molto importante è questo sindromo metabolico. Cardiology Update 2014 è il 65esimo convegno promosso dal 97 dalle terme di Santa Lucia e il poliambulatorio Blue Gallery di San Severino. I centri, entrambi diretti dal dottor Danilo Compagnucci, continuano a dare un significativo contributo alla formazione e alla ricerca scientifica. Senza la formazione e il continuo aggiornamento, sicuramente noi medici non riusciremo a stare dietro a tutto quello che piano piano la scienza scopre. E quindi dobbiamo essere noi al servizio dei cittadini, proprio per questo dei pazienti che ci chiedono e vogliono essere informati sulle novità. Proprio per questo abbiamo creato insieme al Blue Gallery un centro, insieme al proprietario, un centro dove ci sono delle attrezzature diagnostiche che ci consentono anche delle diagnosi più accurate. Qui abbiamo il centro endoscopia con le varie gastroscopie per via nasale, addirittura alta definizione. Abbiamo il centro endoscopia con il mammografo digitale, con la tomosintesi che è l'ultimo nato in questo campo, in questo settore. consideriamo che la mammografia tradizionale consente di vedere fino a un certo punto. Con questa macchina noi possiamo dare immagini in tre dimensioni, quindi con le stesse radiazioni noi diamo un'immagine a livello delle mammelle. In tre dimensioni riusciamo quindi a vedere delle calcificazioni anche più piccole, quindi che magari avrebbero richiesto una risonanza. Quindi ecco attrezzature che riescono a supplementare e aiutare il medico nella diagnosi. Poi tutti i vari attrezzature otrinolingoiatrici, attrezzature cardiologiche. La cardiologia è il nostro fiore all'occhiello, quindi ecografi in ultima generazione, ecografi in tre dimensioni. Chiaramente sono tutti ausili che insieme alla professionalità dei medici fanno sì che la diagnosi sia più accurata. Grazie.